Massimiliano Terminelli, organizzatore di Vinora, questa edizione che giunge dopo il lockdown, dopo il Covid, edizione Light Edition. Ebbene sì, Light Edition era un dovere che avevamo verso tutti noi, perché fare una edizione più leggera, più leggera ci tengo a dire dal punto di vista quantitativo. Chi conosce Vinora sa che noi gli altri anni eravamo nelle varie ville comunali di Battipaglia con oltre 40 aziende a fare le degustazioni, quest'anno giustamente non è stato possibile. Quindi Light Edition come quantità inferiore, ma assolutamente non come qualità. Quindi avremo comunque dei bei momenti artistici, presentazione di libri, danza e poi il nostro Vinora Jazz, quindi tre serie di jazz. Noi ostinatamente cerchiamo sempre di portare questa musica a Battipaglia che comunque piace a tanti. Massimiliano, quali sono state le difficoltà che avete incontrato nell'organizzazione vista l'emergenza sanitaria? Chiaramente sono state tante le difficoltà, però sono anche quelle norme che ormai tutti noi osserviamo normalmente, perché chiunque va in un ristorante sa come deve comportarsi, chiunque va in una piazza troppo affollata sa come deve comportarsi. Quindi non abbiamo fatto null'altro che applicare queste norme anti-covid che ormai siamo diventati tutti quanti bravi ad osservare. Grazie. Grazie.